Morigno I Blaugrana, dopo il sofferto successo in Champions sul Copenaghen, andranno a far visita al Saragossa, a fanalino di coda e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. I pipistrelli di Emery, reduci dal pari in trasferta a Glasgow, riceveranno invece la visita del Mallorca. Il sottomarino amarillo di Garrido, infine, dovrà fare i conti nell'ultimo match della domenica con l'avversario più tosto. Al Madrigale, infatti, scenderanno in campo i Colcioneros dell'Atletico Madrid. Nella stessa giornata saranno giocate altre cinque partite, la più interessante delle quali sembra Siviglia-Atletic Bilbao. Chiusura dell'ottava giornata lunedì con il posticipo Real Sociedad Deportiva.